come risolvere così il problema riguardo al client integrative violation o dell'easy anti cheat su rust quindi in questo caso andiamo direttamente nella sua cartella quindi vai su gestisci vai su proprietà vai su file installati sfoglia i file locali ed eccoci qua cancella così la cartella dell'easy anti cheat scende fino a giù fino a trovare il rust client e rust e unity crash endless 64 cancella questi file qua chiudiamo un attimo qua verifica l'integrità dei file di gioco aspettiamo così la verifica e aspettiamo anche che convalida i file in corso e che li scarichi di nuovo una volta fatto non ti resta che chiudere un attimo qua ovviamente ti consiglio anche di uscire dal tuo account steam quindi disconnetti dall'account e riconnetterti di nuovo e poi entrare su rust e ora non ci resta che avviare il gioco grazie il gioco si è avviato ora non ci resta che entrare in un server e vedere se non c'è più quell'errore quindi andiamo direttamente su comunità e proviamo ad entrare in un server sto connettendo ed ecco che mi sono connesso così al server quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao